Buona giornata, sabato 17 luglio, prima edizione del TV giornale di Telestense, edizione che apriamo subito con la cronaca perché ieri mattina, appunto venerdì 16, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Ferrara, nell'ambito dell'attività, a volte a reprimere lo spaccio di stupefacenti del centro cittadino, hanno effettuato mirati servizi di osservazione nelle aree frequentate dai tossicodipendenti. In tale contesto i militari hanno osservato che un ferrarese 54enne, mentre si aggirava con fare sospetto lungo via pomposa, è stato avvicinato da un 53enne centese al quale è stato ceduto un piccolo involucro in cambio di denaro. I carabinieri sono intervenuti e hanno sequestrato la dose ceduta, risultata essere una compressa di medicinale contenente sostanze stupefacenti, eccedibile solo su prescrizione medica che ovviamente i due non avevano. La successiva perquisizione presso l'abitazione dello spacciatore ha permesso ai militari di sequestrare altre 10 pastiglie della stessa specie. Il ferrarese è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica Estense per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, essendo le compresse vendute soggette alla disciplina della legge degli stupefacenti. Continueranno anche nei prossimi giorni le attività di contrasto allo spaccio di droga nel centro cittadino, soprattutto negli ambienti giovanili. E parliamo adesso invece di investimenti dalla scuola alla sicurezza, dalle infrastrutture alle manutenzioni. Il Comune di Ferrara annuncia oltre 15 milioni di euro di investimenti. Sentiamo di che si tratta. Oltre 15 milioni e 600 mila euro di investimenti con risorse attinte dagli avanzi di bilancio e da nuovi mutui. E' quanto rende noto l'amministrazione comunale in merito a futuri stanziamenti che riguarderanno scuola, sicurezza, sociale, infrastrutture, manutenzioni e digitalizzazione. Nel dettaglio si tratta di 7 milioni 485 mila 643 euro di avanzo complessivo di bilancio, tra libero, accantonato e vincolato, e di 8 milioni 162 mila 500 euro di mutui che si intende perfezionare. Nelle spese investimenti da finanziare con mutui compaiono, tra le altre cose, 150 mila euro per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polifunzionale. I fondi serviranno a coprire le attività tecniche preliminari per avviare il percorso di realizzazione dell'opera. Su parte programmatica, nella variazione di luglio, riporta un comunicato, sono inoltre state inserite due nuove azioni previste per il 2022 e che riguardano l'avvio dell'iter di riqualificazione dell'area ex Casa dei Polli, 215 mila euro ora previsti per un progetto complessivo che prevede un'integrazione di oltre 2 milioni di euro, l'adeguamento dei locali del padiglione di arte contemporanea che coglieranno lo spazio Antonioni. In questa prima fase sono previsti 150 mila euro su un'azione che avrà poi un'aggiunta di 800 mila euro. Alla voce avanzo libero per opere pubbliche è stato inserito tra le altre cose un nuovo programma definito Rigenerazione Frazioni, un contenitore aggiuntivo di interventi manutentivi che per il 2021 ha un budget di 250 mila euro. Nello stesso capitolo anche un programma manutenzioni strade, ponti, segnalettica da 770 mila euro. Manutenzioni, ciclabili, messe in sicurezza, installazione di barriere stradali saranno inoltre al centro di ulteriori 3 milioni di euro circa sostenuti con mutui. Con gli avanzi di bilancio saranno inoltre finanziati tra le altre cose quasi 20 mila euro per la strumentazione informatica per il servizio infanzia, 38 mila euro per gli arredi delle scuole elementari e medie, 65 mila euro complessivi per software, dotazioni tecnologiche e apparati di rete, 177 mila euro per la digitalizzazione del quartiere feristico e il recupero degli alloggi popolari per 1 milione 200 mila euro complessivi. E rimanendo sempre nell'ambito del comune, entra nel vivo l'iniziativa chiamata Con le frazioni, volta a dare risposte ai cittadini che vivono nelle aree periferiche. In questi giorni siamo stati a Casaglia, Ravalle e Porporana, sentiamo dunque quello che è emerso. Ha preso il via nelle scorse settimane il progetto Con le frazioni, un'iniziativa del comune di Ferrara per confrontarsi con gli abitanti delle singole località e raccogliere eventuali criticità da risolvere. Le frazioni, parliamo di oltre 50, tra borgate e frazioni, sono tantissime. La maggior parte del territorio ferrarisi è proprio composto dalle frazioni, un'area molto vasta, un'area che ha bisogno di ascolto. Uno dei primi punti è l'ascolto, ascoltare i cittadini, molti di questi sono anziani, molti non riescono a connettersi proprio con l'amministrazione, quindi abbiamo deciso di puntare sulle frazioni, un territorio che merita sicuramente tantissimo ascolto e nel quale c'è veramente tanto da fare. Le prime frazioni coinvolte sono state quelle a nord-ovest della città, Casaglia, Ravalle, Porporana. Dopo le prime richieste ricevute, rappresentanti dell'amministrazione comunale sono tornati sui territori per fornire le prime risposte ai cittadini. Da questo primo giro, perché è ovvio, stiamo proprio iniziando, in queste prime tre frazioni indagate in qualche maniera sono emersi diverse problematiche che sono più o meno sempre le stesse, un po' in tutti i territori, quindi credo che anche le altre frazioni ci saranno i legittimi distinguo, però più o meno le tematiche sono quelle. C'è sicuramente un bisogno di manutenzione, quindi interventi che riguardano le infrastrutture comunali, sia strade, le marciapiedi, le ciclabili. C'è un bisogno di manutenzione a quelli che sono gli stabili di proprietà del comune, che spesso vengono dati in concessione a dei gruppi più o meno informali del territorio, affinché questi vengano valorizzati. C'è la gestione del verde, quindi gli sfalci, le potature, anche perché siamo in campagna, quindi inevitabilmente queste problematiche aumentano sensibilmente e in qualche maniera c'è anche però la grande esigenza dell'aggregazione. Diverse le testimonianze raccolte che denotano voglia di partecipazione da parte dei residenti delle frazioni. Ci sono da sistemare alcune cose come l'abbellimento della piazza qui, poi davanti in fondo abbiamo le scuole che poi penso che il prossimo anno saranno sistemate perché c'è un buco nel tetto e poi all'interno c'è una palestra che è molto funzionale per gli anziani, per riabilitazione. Per le persone anziane ma anche i posti di ritrovo, sia magari per i giovani come avevamo la Sagra prima, che facevamo il calcio, le sfilate, abbiamo fatto le sfilate di sposa, il mangiare tutti insieme e passare le giornate tutti quanti insieme. Sicuramente dei trasporti molto più agevoli, verso Ponte Lago Scuro non c'è niente, sicuramente la manutenzione delle strade perché purtroppo è un marciapiede che non esiste, una ciclabile ma vabbè. Insomma diciamo che la viabilità è una delle cose in prima persona. E passiamo alla cronaca adesso, ancora una truffa nei confronti di un'anziana, è ancora la tecnica del finto incidente, è quella segnalata l'altro ieri dalla Polizia di Stato da una signora di 77 anni. Alle 13 avrebbe ricevuto una telefonata da parte di un uomo che si presentava come suo nipote e le riferiva che sua figlia aveva causato un grave incidente stradale dove erano rimaste coinvolte più persone e che era stata trattenuta in caserma. Per liberarla servivano 3.000 euro, le ha detto il truffatore, e la donna ha raccolto denaro e oggetti di valore in un sacchetto poi consegnato a un uomo che si è spacciato dipendente di banca e amico del finto nipote. Dalla questura ancora una volta mettono in guardia i ferraresi contro queste odiose truffe. E ci sono ancora episodi analoghi che arrivano anche dalla provincia, sono purtroppo due le truffe perpetrate tra il 13 e il 15 luglio nel Comachiese ai danni di persone anziane. In entrambi i casi i malfattori, spacciandosi per addetti al servizio idrico comunale, hanno suonato la porta di una 84enne pensionata mesolana e il 15 a casa di una 74enne pensionata di Lago Santo. In entrambi i casi i malfattori hanno invitato le due donne a riporre gli ori di casa all'interno del frigorifero in attesa di effettuare le verifiche sulla salubrità dell'acqua. Con pretesti futili hanno distratto le pensionate, hanno sottratto loro ori e contanti per poi allontanarsi. Le povere maccapitate solo successivamente si sono rese conto di essere state raggirate e derubate e hanno chiamato il 112 per chiedere l'intervento delle pattuglie dell'arma. La compagnia dei Carabinieri di Comacchio ha avviato le indagini al fine di risalire agli autori delle due truffe e contestualmente evita i cittadini a diffidare dal far accedere alle proprie abitazioni persone sconosciute o servicenti emissari di società o enti. In caso di dubbi o perplessità i cittadini sono invitati a contattare tempestivamente il 112 per chiedere consiglio prima di fare entrare sconosciuti in casa. Adesso invece torniamo sulla politica ma parlando di viabilità perché in vista delle prime partenze per le vacanze con l'obiettivo di facilitare gli spostamenti dei vacanzieri lungo la rete di strade e autostrade gestite, ANAS provvederà a rimuovere a partire dal 23 luglio fino al 5 settembre 435 cantieri degli 800 presenti sulla rete che possono avere impatto sulla viabilità estiva. Di cantieri si è parlato anche nell'ultima puntata di Match Estate dove la consigliere regionale Marcella Zappaterra ha spiegato le attività svolte sulla superstrada Ferrara Mare. La sentiamo. La premessa è questa, la mia opinione personale è che continuiamo ad essere un'anomalia come paese perché ogni anno quando c'è da fare la manutenzione della superstrada viene fatta, parte a Pasqua e viene fatta nel periodo estivo proprio quando iniziano i flussi turistici di visitatori e la superstrada è intasata. Tutti gli anni chiediamo che li facciano e li facciano in fretta ma soprattutto chiediamo di anticipare la programmazione di questi lavori perché è manutenzione ordinaria e credo si possa prevedere di farla anche prima. Io ormai non accetto nemmeno più la risposta che normalmente mi viene data. I lavori di asfaltatura vanno fatti d'estate perché altrimenti di inverno le temperature in Norvegia o in Finlandia come faranno mai a tenere gli asfalti a posto? Quindi non sono un ingegnere, non voglio fare la populista, però una programmazione di questo genere da parte di Ana sulla manutenzione della super non è più accettabile. Quest'anno si è impegnato molto anche l'assessore Corsini che abbiamo sollecitato, con Ana si hanno chiuso i cantieri stringendo i tempi perché è chiaro che nel momento in cui in diversi tratti della super ci sono cantieri aperti, il venerdì quando le persone passano per andare al mare e la domenica sera quando torno, sembra che lo facciamo apposta anziché per incentivare il turismo per metterli alla prova se l'anno dopo hanno voglia di tornare. Io le polemiche che ho letto, così giusto per chiudere questo argomento, è legato al fatto che a percezione si dia priorità magari ad altre zone della regione e Ferrara rimanga sempre un po' al fanellino di coda. Io vorrei che non fosse così, però chiedo… Questo lo escludo perché da quando abbiamo il problema il benchmark lo facciamo anche noi sugli altri territori, ce lo siamo posti e purtroppo la modalità di programmazione di Ana se è così, i cantieri ci sono anche su strade di altri territori, ma non è una scusa. Grazie all'intervento di Corsini siamo riusciti venerdì sera a far sgombrare il cantiere alle 8, io stesso ho fatto due giri per monitorare, l'hanno sgombrato nei momenti di flusso elevato, lunedì mattina c'erano ancora i cantieri per le rifiniture, ma gli abbiamo anche fatto fare le corse per accorciare i tempi, quindi quest'anno abbiamo un po' tamponato, poteva andare molto peggio, ma bisogna che la programmazione funzioni diversamente, se il territorio non vuole continuamente essere penalizzato. Vi ricordo match estate, tutti i giovedì sera in replica al sabato alle 21.30 su Telestense. Parliamo adesso di Coldiretti Ferrara che con il presidente Tassinari e il direttore Visotti ha incontrato ieri il prefetto di Ferrara Michele Campanaro. Al centro del colloquio le iniziative che Coldiretti ha fatto nei giorni scorsi in tutte le regioni italiane e in sede nazionale per evidenziare il grave problema dell'invasione della fauna selvatica, dove lo squilibrio tra alcune specie sta provocando danni sia alle produzioni agricole sia al territorio, con problemi anche di sicurezza e incolumità per i cittadini. E se la proliferazione dei cinghiali è la punta dell'emergenza, ci sono anche altre specie che soprattutto nel nostro territorio rappresentano una minaccia da non sottovalutare a partire dalle nutrie. Il prefetto ha colto l'allarme e lanciato di Coldiretti, condividendo la preoccupazione e l'intento di far sì che vi sia prevenzione nel rispetto delle norme prima che i problemi diventino fuori controllo e pertanto che occorrono le necessarie modifiche prima di tutto alla legge sulla caccia per consentire una più efficace e sullecita possibilità di contenimento della fauna selvatica invasiva, laddove possibile anche da parte degli agricoltori e con modalità innovative e sperimentali. Il presidente Tassinari e il direttore Visotti, nel consegnare il testo delle modifiche di legge, hanno quindi esposto al prefetto Campanaro la necessità di tenere alta l'attenzione sulle problematiche relative ai nostri territori, dalle nutrie ai piccioni, ai corvidi e all'alta fauna nociva, che alla pari dei cinghiali provoca danni alle produzioni agricole e rischi per l'incolumità dei cittadini, soprattutto in alcune aree del territorio particolarmente gravate dallo squilibrio faunistico. Adesso invece apriamo la pagina dedicata alla sanità. 12 ferraresi dovevano ricevere in fiera ferrara il richiamo con Moderna, ma per un errore procedurale gli è stato iniettato AstraZeneca. Immediate le scuse da parte dell'azienda USL, che sottolinea anche come il mondo scientifico si ormai concorde sulla pari efficace sicurezza della vaccinazione eterologa. Vediamo. È il 6 luglio scorso, quando al lab vaccinale di Ferrara Fire, 12 persone si recano per effettuare il richiamo e completare il ciclo vaccinale, prima dose a inizio giugno con Moderna. Ma due martedì fa invece, a causa di un errore procedurale, come sottolineato dall'azienda USL di Ferrara, gli è stata iniettata una dose di vaccino AstraZeneca. Le persone che hanno un'età media di 57 anni sono state tutte contattate dalla direzione farmaceutica aziendale, dal responsabile medico del Risk Management e dal responsabile infermieristico per la sicurezza delle cure. Secondo l'USL sarebbe stata effettuata subito un'indagine sulle loro condizioni di salute e i pazienti saranno monitorati in coordinamento con i loro medici di famiglia. Attualmente comunque le condizioni di tutti i pazienti sono buone, aggiungono dall'azienda sanitaria locale. Un errore l'ha definito il direttore sanitario Emanuele Ciotti dell'azienda USL, che insieme alla direzione porge le proprie scuse all'utenza per l'accaduto e per i conseguenti disagi. Sanità pubblica che sottolinea anche come il mondo scientifico si è ormai concorde sulla pari efficacia e sicurezza della vaccinazione eterologa. Intanto parliamo anche di bollettino coronavirus. Le vaccinazioni intanto nel Ferrarese continuano. A breve comunque sentiremo i dati dei contagi, ma partiamo proprio dalla campagna vaccinale. Più di 3.500 dosi sono quelle somministrate giovedì nel Ferrarese che hanno fatto salire a circa 224.400 prime dosi sul territorio estense e più di 147.000 i ferraresi che hanno ricevuto anche la seconda dose, circa una su due delle persone vaccinabili. Dall'azienda USL dicono che la campagna vaccinale anti-covid non si ferma, anzi, per le persone dai 18 ai 60 anni che non hanno ancora prenotato il vaccino, sono disponibili ulteriori posti nel lab vaccinale di Ferrara Fiere per effettuare la vaccinazione con Moderna. Tutti i cittadini interessati possono prenotare attraverso i consueti canali disponibili. Per le over 60, invece, rimane attivo il portale informatico che consente di prenotare la vaccinazione monodose Johnson & Johnson nella fascia oraria che va dalle ore 13 alle 14 presso l'hab vaccinale a Ferrara Fiere. Intanto nel Ferrarese, come in tutta l'Emilia-Romagna, per l'ennesimo giorno consecutivo non si registrano decessi per covid. I contagi, intanto, in territorio estense rimangono stabili. Su 69 tamponi, 10 nuovi positivi, metà dei quali nell'argentano, età media 30 anni, 5 dei 10 sono asintomatici. Zero, invece, i nuovi guariti dal covid in tutto il Ferrarese, come zero i nuovi ricoveri giovedì all'ospedale di Cona, dove i ricoverati per coronavirus sono 10 in totale, uno di questi pazienti in terapia intensiva. Zero, invece, i ricoverati negli altri due ospedali covid ferraresi, il delta è 100. Se ci spostiamo a livello regionale, qui aumentano i nuovi guariti rispetto al giorno precedente, ma i nuovi positivi, in questo giorno, sono 200. Adesso, invece, parliamo ancora di sanità, ma con un'intervista, andato in onda ieri sera su Telestense, nello spazio a tu per tu. Oltre ai nuovi cantieri per la ristrutturazione di alcuni ospedali provinciali, tra le novità più rilevanti della sanità ferrarese del prossimo futuro, c'è l'infermiere di comunità e il potenziamento dell'assistenza ai malati cronici, che significa una medicina più vicina alla gente. Ieri sera, appunto, come dicevo, è stata intervistata la direttrice dell'azienda USL di Ferrara, Monica Calamai, ne sentiamo dunque un estratto in questo servizio. Servizi domiciliari potenziati, non a caso, noi abbiamo introdotto e abbiamo lanciato lo scorso settembre, ottobre, i corsi degli infermieri di comunità. Abbiamo assunto un numero di infermieri consistente, di circa 40 infermieri, dedicati come infermieri di comunità. Per dedicarsi a fare gli infermieri di comunità, abbiamo finito ora il secondo corso, di formazione e quindi metteremo queste risorse che sono, come dire, i sensori, quelli che vigileranno, che raccoglieranno i bisogni della popolazione sul territorio, interagendo con le case delle comunità, con gli ambulatori di cronicità, con la medicina generale, per poter dare una migliore assistenza. Al riguardo abbiamo un progetto finanziato anche qui dalla regione di 600 mila Euro che partirà su 40 pazienti, parlo di pazienti cittadini con cronici, il progetto aree interne, le realtà individuate sono sostanzialmente due, e parte sulla cardiologia, quindi la telecardiologia con tutta la parte dello scompenso e i telemonitoraggi conseguenti, diabete, con anche indagini del fondo dell'occhio attraverso i retinografi acquisiti o donati o in acquisizione che consentono anche in remoto l'analisi del fondo dell'occhio e sulle cure palliative. Questo dunque un estratto delle interviste che potrete poi rivedere sui canali social di Telestense. Intanto parliamo di SPAL perché salta la prima amichevole estiva. Oggi era in programma la prima uscita della squadra di Clotet che avrebbe sfidato il Solandra Val di Sole dove si trova la SPAL in ritiro estivo per preparare la nuova stagione. Partita ricordiamo che era in programma proprio oggi pomeriggio, sabato 17 luglio alle ore 18, ma che è stata annullata. E con questa segnalazione siamo in chiusura. Vi ricordo come sempre Telestense.it e i nostri canali social con queste e altre notizie mentre la prossima edizione in televisione è rinnovata questa sera alle 19.30. Grazie dunque per averci seguito e a tutti buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.